Musica Benvenuti alla Rassegna Stampa Occhio e Giornali di oggi venerdì 18 dicembre 2015 Benvenuti e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Soprattutto a chi ci segue in diretta al mattino alle 7.30 Un saluto naturalmente anche a chi ci segue in replica Vediamo il santo del giorno e poi vediamo le previsioni del tempo Allora oggi è San Graziano di Torsi Vescovo, il sole è sorto alle 7.36 e tramonterà alle 16.33 Non c'è granché da dire come sempre per il tempo nei prossimi giorni Oggi avremo cielo sereno poco nuvoloso con temperature senza variazioni di rilievo Attenzione alle foschie o ai locali banchi di nebbie in particolare nel tardo pomeriggio Per domani stesso discorso avremo cielo parzialmente nuvoloso lungo la fascia costiera Per domenica 20 dicembre lo stesso parzialmente nuvoloso Nuvoloso sarà il cielo con temperature senza variazioni di rilievo Le condizioni del tempo rimarranno stabili dunque sulla nostra regione Con alta probabilità anche per gran parte della prossima settimana Allora cominciamo a leggere i giornali Partiamo subito dalla pagina del messaggero Il messaggero di Fano che lancia l'appello dell'associazione Regresso Arti Che chiede la casa del Grizzly Quella che si trova nell'area del campo d'aviazione L'associazione vuole fare un laboratorio nel vecchio stabile dell'aeroporto L'assessore Cecchietelli dice la proposta pare provocatoria Valuteremo in giunta che cosa offrire Regresso Arti lo sapete È quell'associazione che si batte per le città pulite Promuove città senza scritte Senza bombolette spray Possiamo sintetizzarla un po' a modi slogan in questo modo Si è offerta questa associazione di pulire e ripulire Tutto il centro commerciale San Lazzaro Che chi conosce bene quella zona È una zona dove i vandali si divertono ogni volta A deturpare i muri A scriverci, a colorarli A fare di tutto di più Si è offerto di ripulire questo centro commerciale a titolo gratuito In cambio di questa struttura qui Ve la faccio rivedere per chi non l'avesse localizzata bene È quella struttura che oggi è occupata appunto dai giovani del Grisli Insomma è uno spazio autogestito Pare insomma un po' una lotta tra chi sta un po' a destra Se volessimo collocarla politicamente è un gruppo di destra Un gruppo di sinistra Adesso non so se quelli di Regresso Arti sono d'accordo su questa sintesi Ma comunque più o meno è così Ecco perché l'assessore Cecchetelli parla di proposta Che sembra essere una proposta provocatoria Dove tra l'altro di scritte da cancellare per chiudere con una battuta Ce ne sono allo spazio Grisli Perché questa è una fotografia ancora un po' datata Quella nuova è invece se andate a vedere davanti alla struttura Insomma ce ne è di scritte È tutto bello colorato Allora le altre notizie sulla pagina di Fano del messaggero Regione blocchi l'accorpamento degli ITC Battisti Levata di scudi trasversale in difesa dell'autonomia dell'istituto fanese Il presidente della provincia Tagliolini invita ad essere maggiormente Della provincia invitato Invitato ad essere maggiormente cauto Marina dei Cesari Siamo nell'area del porto di Fano Marina dei Cesari Si riapre la strada dopo i lavori Andiamo sull'altra pagina del messaggero Sgarbi Vittorio Sgarbi Sotto l'albero c'è il dramma Un dramma davvero sfiorato per il critico d'arte Che è anche assessore alla cultura del comune di Urbino Il dramma perché come avrete sicuramente saputo È stato operato nella notte d'urgenza Per un'ischemia al cuore Quindi insomma Se l'è vista brutta Tant'è che lui stesso dice mezz'ora in più E sarei morto A pressione a Durbino per lo stato di salute del critico d'arte In questi giorni aveva sollevato anche la questione Dei decori natalizi in Urbino Scatenando un Vespai Insomma non piace a Vittorio Sgarbi Quell'albero Quell'albero Strano Posizionato Appunto nel cuore Della città ducale Lui stesso poi parlando della sua Salute Ha tenuto a rassicurare tutti i suoi fan sui social E con una battuta dice Capre sono ancora qui Andiamo Adesso A vedere La pagina delle marche invece No ancora quella di Pesaro La pagina di Pesaro del messaggero Banca Marche Via Alle lettere di Messemora Affollato incontro Convocato dalla Feder Consumatori Con i risparmiatori che non sanno come riavere I loro soldi Risarcimento Niente presupposti legali per azioni collettive Meglio arrivare ad un tavolo di negoziazione Entro 15 mesi Sotto Entro 15 mesi Gli uffici comunali Andranno nell'ex tribunale a Pesaro Si produce un effetto domino Dopo la cessione dell'ex Bramante Da parte della provincia Ancora San Silvestro In Piazza del Popolo Con il party di Radio 105 Il comune prepara la maxifesta Che traghetterà la città di Pesaro nel 2016 Il DJ Tutti i DJ della notte emittente Faranno ballare Pesaro Rimini e Merano Paico coperto Illuminazione scenografica I video promozionali Il pacchetto tutto compreso Costerà all'amministrazione 7.000 euro La fibra ottica invece Dopo team Anche Vodafone Investe nella città di Pesaro Adesso apriamo il Corriere Adriatico La pagina di Fano Pagina di Fano Regolamento blindato Sì a maggioranza Respinti tutti gli emendamenti Del 5 Stelle Masseri si impegna a presentarli Al Comitato dei Sindaci Osservazioni di buon senso Anche condivise bloccate Dall'approvazione concordata Con altre 13 comuni In città Ci sono 10 sale gioco E 370 esercizi Pensate con slot machine I dati sono comunicati Dall'assessore Cecchietelli Sull'azzardo legalizzato In risposta ad una interrogazione Ha aumentato il numero Dei centri scommesse Non sono pochi Se ci pensate Se fate due conti Se ci pensate un attimo Insomma in città Fano 10 sale gioco E 370 esercizi Con slot machine L'impegno della giunta Comunale fanese Espresso anche da Mascherina E dalla Barnesi Ma la consigliera Ruggeri Segnala ritardi Ruggeri è del 5 Stelle Lotta a ludopatia Nostra prerogativa esclusiva Il proclama del gruppo PD Che invece di contraddire la censura Dileggia i critici Greve replica All'accusa dei pentastellati Secondo cui 3 assessori Non fanno per mezzo Andiamo a vedere L'altra pagina di fado Del Corriere Adriatico Bene Comune Bene Comune torna in campo La lista civica si ripresenterà Alle elezioni Pare dignità con gli alleati Ancora sul quotidiano Marchigiano La pagina di Pesaro La direttrice Capalbo La direttrice Dell'azienda ospedali riuniti Marche Nord Annuncia l'assunzione Di 50 infermieri Al San Salvatore Sono stati aumentati I posti letto Di osservazione breve 15 quelli della medicina Di urgenza Questa decisione È stata anticipata Ai sindacati L'obiettivo nel 2016 Cioè quella di assumere 50 nuovi infermieri L'obiettivo nel 2016 Dell'azienda Marche Nord È per adeguare La pianta organica E smaltire Le ferie arretrate A centro pagina Braccio di ferro Sulla conferenza dei sindaci Gambini Presidente per l'area vasta Il PD dice Elezione illegittima Ma lui replica Vado avanti La pagina Apriamo invece adesso Apriamo adesso invece Il resto del Carlino La pagina di Fano Del resto del Carlino È sul Viglione dell'ultimo dell'anno Che qualcuno sperava Di poter realizzare al circolo In realtà il comune guasta la festa Perché Perché mancano le condizioni Di sicurezza Nel campo del circolo Di tennis Dove doveva svolgersi Appunto questo evento Per l'ultimo dell'anno E dunque Non c'è L'autorizzazione L'amarezza dei gestori Che dicono Eh insomma Questa è una grande Occasione persa L'altra pagina Di Fano Del resto del Carlino Sull'ospedale L'ospedale Seri Cerca sponde Cerca qualcuno Che lo appoggi Su questa Scelta di Indicare Insistere Indicare Chiaruccia A Fano Come luogo Dove poter costruire Il nuovo ospedale L'ex sindaco Stefano Guzzi Dice Maseri È assoggettato Ai diktat Del partito democratico Dunque polemiche Dopo il sabotaggio Dell'assemblea Dei sindaci I democratici Hanno disertato L'incontro di Urbino In cui si è bocciato Il piano regionale Bene comune Tende la mano al sindaco Però dice Così Non va Insomma Non gli piace Come gestisce La città La Pagina 19 Del resto del Carlino Ha Un po' di cronaca Con questo autobus Ve lo faccio vedere Ecco la fotografia Questo autobus Che ieri Alle 7 40 del mattino Ieri mattina Si è scontrato Con una macchina In Viale Gramsci Siamo Sulla strada principale Sulla statale E Via Negusanti Vedete Questa auto Che si stava Immettendo Sulla via principale Che è andata Contro Questo Autobus Gli studenti Che erano sopra Sono Andati Sono rimasti A piedi Insomma Ecco Questo Poi c'è la cronaca Di tutto questo incidente Poi sotto invece Anzi Più grande La storia Di queste Sono due in realtà Le persone interessate Perché Di questa Di questa notizia Però Qui si parla di Questo Luca Baci Che ha patteggiato Tre anni e dieci mesi Per aver tagliato I freni dell'auto Di una donna Prosciolto Dalla seconda accusa Allora Io mi limito Semplicemente a dire Il titolo Insomma Gli amici terribili Destini diversi Luca patteggia Tre anni e dieci mesi Mancani a processo Sono i due giovani Che avevano tagliato I freni di un'auto Rispondevano anche Di aver pensato Di far fuori Una parente Per l'eredità Avevano tagliato I freni Dell'auto Di una donna Di 57 anni Voleva eliminarla Senza tanti giri Di parole Pensava che Lo danneggiasse Che lo mettesse In cattiva luce Agli occhi Di una ragazza Che gli piaceva Per fortuna I freni Benché fuori uso Non provocarono L'uscita di strada Della donna La quale arrivò A casa sana e salva Ma con un dubbio Chi le aveva tagliato I freni E qui Roberto Damiani Che stavanti Racconta poi il processo Dateci una sede E vi cancelliamo I graffiti a San Lazzaro La proposta Come abbiamo già visto Di regresso arti Che punta il Grisli Ma va bene Anche altrove Dicono loro Poi a Orciano Invece A Orciano di Pesaro Dicono alcuni fedeli Che poi Chiaramente abitano In paese Rischiamo la pelle Per andare alla messa La denuncia Dei cittadini di Orciano Davanti alla chiesa Le macchine fanno il rally C'è il limite Dei 50 Ma le auto Non rallentano Nemmeno vicino Alle strisce pedonali Chiudiamo con Purtroppo Questa brutta Storia La storia Di un cane Un cagnolino Un cane Che è morto È morto Dopo Un giorno di stenti Al freddo La tragedia Del piccolo nebo Morto da solo Sulla spiaggia Era vivo Sotto il camping Del San Bartolo I soccorsi Non sono scattati subito Chi ha provato A salvarlo Non ha chiamato Il numero giusto La Lupus Questa associazione Animalista Ambientalista Dice Rivolgetevi In questi casi Ai vigili del fuoco Purtroppo La notte È rimasto Lì Sulla 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 Gli immagino In un luogo Impervio Quando l'uomo Che l'aveva visto Già il giorno prima È tornato L'indomani Purtroppo Il cane Era già morto Di freddo E questa è la storia Che potrete leggere Sulla Pagina 7 Del resto Del carino Di oggi La rassegna stampa Si chiude qui Io vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro Una buona giornata Vi ricordo anche Che è molto importante Questo per noi Il numero 338 49 68 250 Che è il numero Per effettuare Le vostre segnalazioni Che è sempre disponibile 24 su 24 Chiamate Mandateci I vostri messaggi Le vostre segnalazioni Anche utilizzando Whatsapp Oppure Scaricando La nostra applicazione Su Google Play O sull'Apple Store Basta digitare Cercare Occhio alla notizia E troverete La nostra applicazione Gratuita Con la quale Rimanere sempre aggiornati 24 ore su 24 In tempo reale Grazie per averci seguito A voi tutti L'augurio di una buona giornata Grazie per aver guardato il nostro canale